La nuova farmacia comunale a Gubbio, almeno per il momento, non ci sarà. Tutto rimandato al 2020 per chi ci sarà a governare la città. Lo hanno comunicato stamani il sindaco Filippo Stirati e l'assessore Rita Cecchetti. La riorganizzazione della mappatura delle nuove farmacie presenti nel territorio comunale ha stabilito che per il momento il Comune punterà tutto sull'esercizio di piazza 40 Martiri, non usufruendo della possibilità di aprire un secondo punto nel territorio fuori le mura. L'obiettivo è quello comunque di pensare alla presenza di una seconda pubblica. Non lo vogliamo fare subito, cioè deciderlo entro questo anno. Le decisioni di questa natura riguardano gli anni pari, come è noto, perché la multiservizi Gubbio Cultura è ripartita da poco. Abbiamo fatto una grande operazione di ricapitalizzazione, anche con un impegno finanziario non indifferente. Vogliamo dare ancora più forza, ancora più attrattività all'attuale farmacia comunale di piazza 40 Martiri, facendo investimenti per ampliare gli spazi e per arricchire il marketing di tipo commerciale. Quindi in questo momento vogliamo concentrarci in maniera particolare su questo obiettivo. L'altra decisione presa è stata quella di concedere alla farmacia rurale di scritto di spostarsi a Ponte d'Assi, cosa che accadrà nei prossimi sei mesi dalla delibera di giunta. La farmacia di scritto, ha detto Stirati, ha assolto sino a qui un compito prettamente sociale, giusto dare seguito ad una richiesta fatta da tempo dal privato. A scritto resta l'obbligo da parte del titolare della farmacia di tenere un armadio farmaceutico per non depotenziare di servizio un territorio già fortemente marginalizzato dopo l'apertura della Perugiancona. La nuova mappatura, che si va a sostituire a quella realizzata circa dieci anni fa, tiene conto dello spostamento di due farmacie dal perimetro dentro le mura urbiche a fuori e dall'apertura poche settimane fa di una nuova in via Cairoli, assegnata tramite bando regionale. Considerando che per legge ogni farmacia deve avere una dotazione minima di 3.300 abitanti, alla nuova di via Cairoli è stata assegnata come area il centro storico, a quella comunale di piazza 40 Martiri, la zona di San Secondo, alla farmacia di via Perugina, è stata assegnata la fascia che da Sant'Agostino va verso Cipolleto, a quella di Viale della Rimembranza, parte di Sant'Agostino, San Marco e Villa Magna. Oltre a queste restano le farmacie rurali Padule, Branca, Mocaiana e quella di scritto che come detto verrà trasferita a Ponte d'Assi. Le aree di pertinenza sono un fatto puramente empirico per la clientela, ma sono importanti per le farmacie che possono spostarsi volendo solo all'interno della loro zona di riferimento. Il piano farmacie è stato tema molto dibattuto anche dalle opposizioni che hanno tacciato l'amministrazione comunale di essere ostaggio dei privati e che con i 5 stelle avevano chiesto subito l'apertura della seconda farmacia comunale nel territorio. Io ho la serena coscienza di aver fatto un lavoro molto responsabile, molto attento, che non colpisce nessuno, che non penalizza nessuno, che guarda all'interesse primario della comunità e che naturalmente non mette in secondo piano gli interessi del comune.